Oggi faccio un video in cui non parlo di matematica e fisica, ma parlo di musica, notte che suono la chitarra, però già che ci sono ci sparo anche quello che so di fisica, che non fa mai male. Allora, iniziamo con le cose semplici, se quali sono le note? Do e mi fa so la si, ecco no, già qua siamo in errore, perché in realtà le note sono di più, perché tra il do e il re in realtà c'è una nota chiamata do diesis, tra il re e il mi c'è una nota chiamata re diesis, tra il mi e il fa non c'è niente. Affidatevi, quelli che hanno la i, il mi e il si non hanno il diesis. Tra il fa e il sol, c'è il diesis, tra il sol e la, c'è il sol diesis, e tra la e il si, c'è il la diesis. Cosa succede dopo il si? Abbiamo detto che non esistessi i diesis, c'è il do. E questo qua è scammassato di un'ottava, ma non perché do e mi fa so la si sono sette note, lo capiremo tra qualche minuto. Quindi, cos'è questo strano simbolo qua? Questo simbolo qua strano è il diesis. Cosa serve? In pratica indica una distanza tra una nota e l'altra. Quindi, la distanza è chiamata semitono. Distanza di un semitono. Perché semitono? Perché se io metto insieme due diesis, faccio un tono. Quindi, se la distanza tra do e do diesis è un semitono, se io ne metto due, tanto diesis è re, quello è un tono. Due semitoni uguale a un tono. La matematica è molto facile. Good. Se il diesis sembra che aumenti di un semitono, in realtà esiste la controparte che è il bemolle. Quindi io posso fare re con questa b in corsivo, che è la distanza di un semitono. Però, invece che alzare il do, è scendere il re di un semitono. Fantastico. Me li fate scrivere tutti? Ma sì, facciamolo perché siamo in un video e siamo molto carini e simpatici. Qua, il fa bemolle, la decadistanza qua è diretta? Il fa bemolle è il mi. Non stiamo a scriverlo. Così come il mi diesis, se tu vuoi farlo strano e chiamarlo mi diesis, esiste. Ma il fa, idem, cos'ha? Quindi qua sotto abbiamo il sol bemolle, poi abbiamo il la bemolle, poi abbiamo il si bemolle, esiste il si con la b, e fa ridere perché in inglese questo qua è un bb. E poi abbiamo il do bemolle, ma il mi. Mi hai detto che non c'è il diesis, quindi che senso ha? Di nuovo qua, anche il si e il mi. Hanno distanza di un semitono. Spero di essere abbastanza chiaro. Buono. Allora, cosa sono questi semitono? Sono distanze. A cosa servono? Non servono per costruire degli schemi e ovviamente per dire quanto dista, per esempio, il fa dal do. Contiamo. Tra il do e il do diesis c'è un semitono, poi c'è un due, poi c'è un tre, poi c'è un quattro, poi c'è un cinque. Quindi cinque semitoni sono due toni e mezzo. Ok. Fa l'altro le note che le ho scritte così in forma italiana, però spessissimo le troverete in forma inglese, ossia A, B, C, D, E, F, G. con le varie diesis e bemolle. Minore, settima, sospese, tutti gli accordi che volete, tutte le note che volete. Solo che non equivalgono a do. Questa roba qua, do A non equivale, ma il do è una C. Quindi questo qua è un do. E poi di conseguenza, la D è re, la E è il mi, per una casualità F sta per Fa e G sta per Sol. Poi in realtà è che è brutto fermarsi a iniziare da C. Magari iniziamo da là. E allora? Là. Sì, no. No, non è che è brutto. È che hanno ripreso una cosa dal tetagramma. Ossia il tetagramma, tetra, un, due, tre, quattro, era il vecchio spartito, diciamo. E cosa succedeva con il tetagramma? Il tetagramma non arrivava una chiave fissa. Aveva la chiave di do, la chiave di fa, la chiave di sol principalmente, e la chiave di do era quella che usata, ma comunque era una chiave mobile. E ti indicava quale riga era il do. E come facevano, avevano una cosettina così che diceva, uè zio, questa, proprio lei, quella che io ti comprimo tra qua e qua, c'è un do. Quindi questo qua è un do. E poi, di conseguenza, lo spazio è il re, questo qua è un mi, lo spazio è il fa, è il sol, eccetera, eccetera. Però cambiava, quindi nel tetagramma, nel canto gregoriano, per esempio, non è detto che il do sia qua, potrebbe anche essere qui, potrebbe essere qua, potrebbe, dipende dalla, dal canto che si voleva fare. Quindi è detto, ah, perfetto, la c, questa qua, è una sorta di c che ci indica il do, per analogia, rifacciamo c, do, e poi di conseguenza. In realtà, anche la g, se voi fate una, una g in corsivo, è una storpiatura, se vedete, della chiave di violino, che è la stessa cosa, nel pentagramma, nel pentagramma, un, due, tre, quattro, cinque, le cinque righe, questa qua ti indicava, oh zio, questo qua, il sol, ok? Quindi, questa qua, una storpiatura, nelle corse dei secoli, è diventata il g, in corsivo, ha detto, perfetto, to, g, sol, tutto quadro, tutto torno. E, quindi se ogni tanto mi confondo, che metto, che passo dalla lingua inglese, alla lingua italiana, capitemi, un po' più bene. Detto questo, ci chiediamo, quando è che due note suonano bene insieme? Intanto magari ci chiediamo, cos'è una nota? Una nota è, una sorta di, modulazione, adesso mi spiego meglio, che disegnare è complicato, ok, cos'è una nota? Ha una sorta di ondina, una perturbazione dello spazio, quindi è un'onda, che ha bisogno di un mezzo, per provocarsi, cosa non banale, perché alcune onde, per esempio la luce, non hanno bisogno di un mezzo, viaggiano anche nel vuoto, mentre invece il suono, ha bisogno di un mezzo, quindi se tu sei nello spazio, non si disuoni, zero. E questa è una nota, che ha una certa frequenza, ossia quante volte oscilla al secondo, la frequenza, che viene misurata in hertz, in hz, ha una certa lunghezza, tra queste due creste, che si ripetono uguali, che è la lunghezza d'onda, e ha una certa altezza, ossia rispetto a uno zero fissato, quando è alto, ha una certa altezza, che viene chiamata l'intensità, quindi cos'è? Se voi avete uno che parla piano, se uno urla, ha delle onde, cos'è? Oppure a parità di intensità, quindi cercare di fare tutte le cose, a questa altezza, ok, sto provando, qua ho fatto, una frequenza media, quindi ho fatto tre creste, questi qua, quindi saranno tipo, se sono al secondo, sono tre hertz, qua ne ho fatte un fottio, fate conto che siano cento, cento hertz, qua ne ho fatte due, due hertz, cosa significa che, tre hertz è una frequenza, infinitamente bassa, di solito andiamo a parlare di, etto hertz, kilo hertz, poi tanto l'orecchio umano smette di sentirli, entro gli, credo, 50.000 hertz, e, quindi questa qua, ha una frequenza molto, molto bassa, una voce da basso, due hertz, non ne parliamo, cento hertz, invece, una voce un po' più acuta, bene, piccolo spiegherino di fisica, non finito, scherzavo, la domanda iniziale, quando è che due, onde, due suoni, suonano bene insieme, che frase di merda, è quando, sono in fase, cosa significa, che, per esempio, ho fatto un'ondina qua, gialla, l'ondina gialla, suona bene con quella verde, perché? Perché vanno in sincrono, li ho fatti male, però, hanno questa cresta, nello stesso punto, questa cresta, nello stesso punto, e questa cresta, questo fondo, invece, insieme, e vanno molto bene insieme, avrei potuto anche fare, una cosa del genere, probabilmente, cioè, una cosa, invece, raddoppiata, quindi qua, io faccio, un stalli scendi, in, totte lunghezze, mentre qua, invece, ne faccio il doppio, e queste cose qua, sono particolarmente insieme, perché, sono la stessa nota, a ottave diverse, quindi, se questo qua, perde un do, anche questo qua, è un do, non solo, avrei potuto fare un do, cosa ha? Una ogni quattro, oppure, una lunghissima, che ne prende sedici, una ogni sedici, però, è giusto per farvi capire, quindi, è molto semplice, quando, in qualche modo, in qualche sorta, di combinazione, creste, valle, si intersegono, in un punto, abbastanza geometrico, quindi, potrei anche fare, un, dove tu sei in alto, io sono in basso, dove tu sei in basso, io sono in alto, eccetera, eccetera, questa cosa qua, fra l'altro, se lo fai con alcuni tipi di onde, per esempio, quelle del, per esempio, le onde marine, se tu sei, in esatta, opposizione di fase, le onde si sommano, e si annullano, però, va bene, cacchi, i fisici, questi, e, quando è che non suonano bene insieme? è quando magari, invece, sono sfasate, di poco, e quindi, ci vuole, vedi che, si allontano sempre di più, ci vuole un numero, non, non finito, di creste, per, suonare di noi in fase, ovviamente, per esempio, se io faccio, una cosa, che ha frequenza di 1, una cosa, che ha una frequenza di pi greco, se guardo il grafico, a un certo punto, eh, sì, sì che si interscano, lo vedi, però se vedo mai in quel punto, tu vedi che si interscano, per esempio, tra 3.1, e 3.2, allora tu zoom ancora di più, e tu vedi che si interscano, perché lo fanno, però lo fanno a 3.14, e 3.15, allora devi zoomare di più, a 3.4, 1, 4, 1, 5, 3.1, 4, 1, 6, e tu non riusci mai a vedere un numero, puro, e questa cosa qua, all'orecchio umano, dà fastidio, così come dà fastidio, ai matematici, non ne vedevano i matematici, il pi greco fa impazzire, comunque questa cosa qua, era un po' uno spiglio, non sto per farvi immaginare, cosa succede quando le onde, si propagano, e per i musicisti, in realtà, serve sapere soltanto una cosa, spesso le onde suonano, le corde suonano, perché entrano in risonanza, cosa significa, che se tu hai un pianoforte, questa è una gomma, se tu hai un pianoforte qua, che suona, e hai una chitarra, ferma, sembra una mela di, dell'Apple, mangiate in dalle parti, questa qua, vibrerà, ma non vibrerà tutta, se questo qua è un mi, vibreranno il mi cantino, e il mi basso, per risonanza, oppure, tutte le note, che hanno una certa frequenza finita, questo, per fare la parte principale, che sono le scale, oh yeah baby, andiamo di sotto, le scale, le scale, ne esistono infinitissimi tipi, le scale maggiore, le scale di g e minore, le scale ideoliche, d'oliche, cazzi e mazzi, però, noi iniziamo, basi, basi, perché ho fatto una d, volevo fare, un s di, scala maggiore, che tutti voi conoscete, io non me la scrivo, perché non puoi scrivere, una scala maggiore, vi do lo schemino, che è, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, questo, ricordatevelo, è molto importante, facciamo un esempio, vogliamo fare la scala maggiore di do, perfetto, iniziamo così, la nota è quella che, da nome alla scala, è quella che darà anche nome all'accordo, vedremo, ed è chiamata fondamentale, applichiamo lo schemettino, dobbiamo avanzare di un tono, oppure, lo possiamo immaginare come due semitoni, quindi, andiamo su a vedere, il do dov'è qua, andiamo avanti, due semitoni, uno, due, perfetto, facile, arriviamo al re, applichiamo ancora un tono, senza, che, vada su, faccio re, re diesis, e poi c'è il mi, fantastico, ora applico un semitono, il mi, oh guarda che botta di fortuna, il mi non ha diesis, quindi se io, aumento questa notte di un semitono, cado direttamente sul fa, molto bello, se invece, in alcune scale, voi vedrete che, questa notte qua, magari non è un mi, è un sol, se io aumento di un semitono, arriverà un sol diesis, e sarà super normale, avere scale con diesis, o bemolle, in armatura, ossia, sempre, poi, se è mal fa, applichiamo un tono, perché ho sto sol, perché c'è il fa diesis, poi c'è il sol, applichiamo un tono, sol diesis, la, applichiamo un tono, ancora, quindi due toni, un semitono, tre toni, un semitono, quindi il tono è la, la dieci, sì, e poi applichiamo un semitono, e, oh, guarda, torniamo al do, e hai ben fatto l'ottava, questa è l'ottava, questa è perché si chiama ottava, quando tu, riprendi la stessa nota, ma un po' più acuta, un po' più, più grave, perché questo qua, è il primo grado, della scala maggiore, questo è il secondo, questo è il terzo, questo è il quarto, questo è il quinto, questo è il sesto, questo è il settimo, e voilà, l'ottava, anche chiamato primo, perché? Perché è il do, qua io potrei fare un'altra scala attaccata, no? Potrei scriverci re, mi, eccetera, eccetera, cosa sarebbe questo? Il nono, perché faccio 8 più 1, oppure il secondo, ma, dipende come lo consigli, questo il 10, oppure il 3, dipende, cioè, in alcuni casi, tu vedrai scritto, fammi l'accordo di, do nona, oh mio dio, cos'è un accordo di do nona? Noi vedremo che, gli accordi, sono formati, da primo grado, da terzo grado, e terzo qui, e quinto grado, e sto mi dice, di fare un do nona, ah, vuoi anche il nono grado? Eh, quindi il secondo, fatto all'ottava sopra, ma lo vedremo bene dopo, lo prometto, faccio ancora un esempio di scala, per farvi vedere che non tutte, non hanno alterazioni di chiave, quindi, ci sono scale che invece hanno, diesis e bemolle normalmente, tra l'altro vi faccio vedere che, do, fare mi fa sol si do, è la scala che tutti conoscono senza sapere, che è una scala, re, applichiamo lo schermettino, diventa un mi, molto più veloce, poi abbiamo un fa diesis, poi semitono, abbiamo un sol, poi tono, abbiamo un la, poi tono, abbiamo un si, poi tono, abbiamo un do diesis, poi semitono, abbiamo un re, se vi fate tutte le scale, tutte le dodici scale maggiori, cos'è che dovete controllare, per capire, se avete capito, uno, la prima, e l'ottava, devono essere uguali, perché sono la stessa nota, se avete, un esperimento, voi dovete fare un esperimento, condate anche le frequenze, calpatevi il rapporto, adesso non è mai intero, però, nessuno lo farà mai, questa cosa qua, faccio una piccola parentesi, il do diesis, per quello che abbiamo detto prima, è un do aumentato in un semitono, fantastico, ma questa nota qua, posso vederla anche come, un re, abbassato di un semitono, avrei potuto scrivere, re bemolle, si, non cambia niente, ma in armonia, fa differenza questa cosa qua, perché re bemolle, esiste in una scala apposta, per esempio, qua di re bemolle, però, parliamone, mentre invece, do diesis, esiste nella scala di do, di dire, ok, perché, se io vi dico, per esempio, queste note qua, comunque, sono tutte note giuste, pensi con lo, con il, con il magico schermetto, se, per quanto ho detto prima, l'accordo è fatto, eh, accordo, maggiore, se l'accordo, ho detto che è fatto, da primo grado, terzo grado, e quinto grado, io vi chiedo di fare lo schermettino, e prendere uno, tre, cinque, tutto a posto, però, ogni tanto vedrete, un do aumentato, un do nono, un do settima maggiore, settima maggiore, cosa significa, questo qua è una cosa, un po' più per chitarristi, vi dico di farle, un do settima, fantastico, voi fate uno, tre, cinque, e a ragionamento, ci mettereste questa nota, è giustissimo, è assolutamente giusto, piccolo dettaglio, se per tutte le altre note, quindi se vi chiedo un do nona, un do quarta, quello che volete, voi dovete mettermi la nottina giusta, quindi se vi chiedo un do quarta, mi ha aggiunto il fa, un do tre dicesima, voglio il fa ma l'ottava dopo, un do nona voglio il re ma l'ottava dopo, con la settima, questo non vale, quando vi dico un do settima, voi non mi mettete il si naturale, il si giusto calcolato con la scala, voi mi mettete il si indietro di un semitono, quindi il si bemolle, perché ho detto si bemolle, perché è proprio questa la differenza, che spiega anche perché qua, non posso metterci il diesis, il bemolle, ma il diesis si invece, io ho preso una nota, che è il settimo grado, della scala maggiore, il settimo grado è anche chiamato sensibile, ogni grado ha un nome, fondamentale, chi ti si incula, modale, chi ti si incula, hanno nomi, però non sono importanti, in potenza non primo, terzo, quinto, dominante, chi ti si incula, sensibile, ottava, perché chi ti si incula, perché chiamare il quarto grado, sotto dominante, mentre invece il sesto grado, sopra dominante, vabbè, bravo, non sono importanti, primo, terzo, quinto, e il settimo, io vi ho chiesto, vi ho detto che il do settima, la settima è un caso particolare, l'unico caso, che se di cui fa la settima, non vuole lo schermettino giusto, ma devi tornare indietro di un semitono, quindi tornando indietro di un semitono, abbiamo detto che, applichiamo il fa, questa nota, potremmo chiamarla, la diesis, si, a regola di logica, si, perché tra la la diesis, c'è, scusami, tra la e il si, c'è il la diesis, però, il la diesis, noi lo possiamo immaginare, come un la, portato avanti, in un semitono, quindi sarebbe il sesto grado, aumentato, in un semitono, non il settimo diminuito, e quindi io magari, avrei dovuto scrivermi, fammi un do, sesta aumentato, ma invece vi ho scritto, un do settimo, quindi, si bemolle, stesso ragionamento con questo, io, intanto non ha senso, riusare il re, perché il re, è l'ottavo grado, o è il primo, se io ti dico un re bemolle, questo è l'ottavo grado, tornato indietro, quindi diminuito, ci sono alcuni casi, in cui, si usano anche i doppi diesis, e i doppi bemolle, proprio per questo motivo, ossia, se io ti dico, guarda, c'è una melodia così, a un certo punto, il settimo, viene aumentato, il settimo grado, viene aumentato, diventa finalmente, l'ottavo, però tu, magari nel pentagramma, vedi il re, con un diesis, con un doppio diesis, scusami, vedi un do con un doppio diesis, che si chiama re, ma questa cosa qua, tu la scrivi come doppio diesis, si, ha fatto un po' col culo, avrei voluto scrivere, sì, ma il senso della cosa, è che io sto suonando una nota, e la modifico, non è che ne prendo un'altra, tu vedi una, una modulazione magari, sei qua che suoni, la melodia fa un certo andamento, poi da qua, la elevi, passi dalla nota che sono andata prima, dal tuo bellissimo do diesis, la, tu li fai, ma la porti a re, e quindi se, se è su uno strumento, per esempio, un arco, lo devi fare, lo devi fare, tutte le vai, semitoni, quarti di toni qua dentro, tu li fai tutti suonando, mentre mi suoi la chitarra, o ci metti uno slide, oppure comunque, devi capire che deve aumentare, e bene, credo che siano tante cose, prossima volta magari faccio a scala minore, che sarà un video lungo, molto lungo, perché a scala è minore, e ci sono fottie, però invece, posso farvi vedere gli accordi, principali, anzi, perfetto, facciamo, l'armonizzazione, della scala, maggiore, ossia, come si formano, gli accordi, in una tonalità, quindi, vi faccio disegnino, per una volta, del pentagramma, perché, è una, madonna mia, una tavolità grafica, potrei anche fare le cose bene, è un'unica volta, in cui, è molto visuale, molto, molto, visuale, questa cosa, abbiamo detto, che questa gistorpiata, che ci indica, il sol, in chiamata chiave di violina, sta qua, e quindi, questo qua, è il sol, vi faccio vedere un attimo, come si legge, però, so che la sapete, ok, se potete averne fatto cagate, non la uso mai, sol su una riga, lo spazio, eh, lo sapevo, lo sapevo, madonna mia, ma, io sono un po' ricoglionito, a mezzanotte, il sol è qua, la riga è là, quindi qua, abbiamo si, poi abbiamo re, e poi abbiamo fa, mi solo si, re, fa, e poi, nei spazi, invece, abbiamo fa, la, do, mi, mi solo si, re, fa, fa, la, mi, classico scioglilingo, che tutti si imparano, per ricordarsi, dove, sono le note sulle re, e dove sono le note sulle spazi, comunque, la nostra scala di do, parte da un do, fuori dalla scala, poi abbiamo un re, poi abbiamo un mi, poi abbiamo un fa, poi abbiamo un sol, poi abbiamo un la, poi abbiamo un si, e poi abbiamo di nuovo, ok, facciamo il do, cosa? Ok, abbiamo detto che l'accordo maggiore è, primo, terzo, e quinto. Adesso facciamo un bel giochino, costruiamo, per ciascuna nota della scala, un accordo maggiore, usando le note della scala, questo è il concetto di armonizzazione, quindi, il do che è il primo, facciamo così, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, vedete che è molto carino questa cosa qua, do, devo prendere il terzo grado, che è un mi, devo prendere il quinto grado, che è un sol, e voilà, do, mi, sol, interessante, però, cosa faccio io? Sul secondo grado? Qui non sembra il terzo o il quinto, ma no, sto aumentando di uno, se faccio più uno, otterrò, due, quattro, sei, ok, il rapporto deve essere lo stesso, a differenza tra queste cose qua, quindi, dal re, cosa succede? Se io prendo questa notina qua, che è il quarto, la sposto qui, ottengo re, fa, e poi il sesto grado, che è la, voilà, abbiamo fatto, re, fa, e la, cosa significa ragazzi? In pratica, se la nota è sulla riga, prendi la riga e fai riga riga riga, se la nota è sullo spazio, spazio spazio spazio, e il suono insieme, non lo faccio per tutti, lo faccio per lui, come disegno, ma lo faccio, in un caso interessante, col sì, ovviamente ragazzi, qua le note, continuano in un certo modo, il sì, mi farà prendere il mi, e poi, mi farà prendere il sol, quindi, abbiamo l'accordo di sì, un accordo particolare, particolare, sì, mi, sol. Adesso, ho scritto una idiozia? Probabile. Com'è che si fa a verificare? Dato che la proporzione deve essere la stessa, se io ho questo accordo qua, che è giusto, ok, no, no, chiazzato, ve lo spiego dopo. Ok, prendiamo questi tre accordi qua, per adesso, e, verifichiamo un attimo una cosa, è proprio vero, che c'è una proporzione tra 1 e 3, e poi, quinto, terzo grado e quinto, cioè se faccio 2, 4, 6, è proprio identico, questo più 1, non è che magari mi modificare a quattro e tre note, le frequenze? Vediamo, tra do e mi, quanti toni ci sono? Due toni, do, re, re, mi, oppure quattro semitori, dado diesis, do diesis, re, re diesis, re diesis, mi, e voilà. Tra mi e sol, quanti ce ne sono? 1.5, non mi spiegherò meglio. Tra re e fa, e ma tra re e fa, in realtà ce ne sono solo 1 e mezzo, perché c'è re e mi, e il mi poi non ha la diesis, quindi c'è subito un semitono, un tono e mezzo, mentre invece tra fa e la, abbiamo due toni. Tra si e mi, abbiamo un tono e mezzo, perché non c'è la i, quindi non c'è il diesis, idem, qua c'è una mi, quindi un tono e mezzo. E noi, sono sballati, sono diversi. Infatti, se voi li suonate, fanno uscire accordi diversi. Questi accordi di sopra, che hanno una certa distanza, i due toni, tra il primo grado, il quinto, e poi, è una distanza di un tono e mezzo, tra il terzo e il quinto, sono chiamati maggiori. Gli accordi invece, che hanno lo schermetto invertito, ok, sono chiamati minori. Gli accordi invece, che hanno proprio la somma, non fa tre e mezzo, ma fa tre, sono chiamati diminuiti. Ok. Perché ho preso questi qua? Perché le categorie sono queste, avevo un comodo esempio nel do, nel re, e nel si, che adesso possiamo chiamare do maggiore, re minore, e si diminuita. Se voi vi fidate, vi dico un attimo come sarebbero, se le armonizziamo tutte, avremo il do, diventa maggiore, abbiamo visto, maggiore, poi il re, diventa, minore, il mi, diventa, minore, il fa, diventa, maggiore, il sol, diventa maggiore, il la, è un la minore, e poi vi ha detto che abbiamo il si, diminuita, e questo schermettino qua, è questo che non varia. Ossia se io la uso con la scala di re, re, mi, qua diesis, sol, la, si, lo diesis, non le ho scritte, sono così, ok? Scusate, però. lo schermettino non cambia, maggiore, minore, minore, maggiore, maggiore, minore, diminuita, idem, per altre scale. E questo è molto importante, perché si chiama l'unitazione? Perché se tu provi a fare invece tutti gli accordi maggiori, o tutti gli accordi minori di fila, do, re, mi, fa, la, si, do, minore, re, minore, mi, minore, fa, minore, sol, minore, la, minore, si, minore, non suonano bene, mentre se invece tu li suoni di fila, questi qua, do maggiore, minore, di minore, fa maggiore, sol maggiore, la minore, si diminuita, e do, suonano molto bene, li armonizzati, stanno bene insieme. Ma non solo, in realtà, comunque questi qua suonano sempre il primo grado, il terzo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, e il settimo, spesso si fanno con le rette romane, questi qua, perché non sono gradi della scala, sono invece gli accordi armonizzati. Ok. Voilà. Ok. Sapendo che tanto ormai questi, li chiamo gradi dello stesso, voi capite che non sono questi, ma sono loro, sapendo che lo schermettino è uguale, spesso, se si vuole improvvisare, oh dai facciamo un pezzo in Bruce, ma che, come hai fatto, ma è un, aspetta, ho sbagliato, è un 4, 5, 1. Tu dici, oh mio dio, cosa significa 4, 5, 1? Ma niente, di mia tonalità, ah perfetto, dai re. Ok. Se non ti dici, cosa devi pensare? Ok. È un giro di accordi, che si ripete in modo ciclico, sempre lui, in cui, iniziamo con la quarta, ok, che è un fa, magari lo facciamo dai 4 quarti, poi abbiamo la quinta, che è maggiore, la facciamo, magari, magari 4 quarti, e poi, il, la tonica, quindi 4 quarti, magari di re. Quindi, cosa succede? Noi faremo fa, quindi siamo in, siamo all'attualità di re, quindi facciamo la nostra scala, gli armonizziamo, sappiamo lo schemino, noi dovremo, magari, fare un, pom, sol, che è il quarto, 1, 2, 3, 4, poi la, che è il quinto, 1, 2, 3, 4, poi, bam, tonica, re, 1, 2, 3, 4, e così il giro si ripete. E quindi, spessissimo, le canzoni, basta dire, il grado, dei accordi. Se voi, ci pensate, le canzoni moderne, hanno, il primo grado, slash, il sesto, ora vi dico perché c'è questo, c'è questo slash, e poi, semplicemente, quarto, e quinto, e ogni tanto c'è il quinto con un aggiunto di una settima, ovviamente la settima non giusta, perché è un caso particolare, la settima, indeniamo quella minore, quella non si mettono indietro, ok, quindi veramente, la maggior parte delle canzoni pop, in realtà, ha un sacco di blues e rock, che sono così. La musica classica è molto più incasinata. Perché ci ho messo quel sesto? Ok, facciamo un altro, l'ultimo, lo giuro, e facciamoci l'accordo di do, do mi sol, che quindi è il primo, mentre magari andiamo a vedere un attimo come è fatto il sesto grado, armonizzato della scala di do. Sesto grado, quindi a un la, poi dobbiamo avere un do e poi dobbiamo avere un mi. Quindi sono sesto, ottavo, sarebbe il decimo, va bene, lascia perdere. Ok, notate qualche ricorrenza? No? Do mi sono in comune. E la e il sol, distano un tono, non significa niente, però ragazzi, al 66%, perché sono due terzi, sono uguali questi accordi. e spesso vengono usati uno al posto dell'altro. Quindi dire il primo grado o dire il sesto grado, ogni tanto è una questione di orecchie, oltre che di armonia e tutto, ma sono molto intercambiabili. quindi spesso è una canzone, per evitare, sempre fare primo grado, quarto grado, quinto grado, oltanto metti il sesto, così almeno l'orecchio non si abitua a sentire, sempre 1, 4, 6, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 5, oltre che ci metti il 6, e va tutto a posto. Questo accordo qua, infatti per il modo il sesto grado armonizzato, in una scala maggiore, viene chiamata relativa minore. Perché? Avete che questo qua è un da maggiore, e questo qua è un da minore, perché sappiamo che il sesto grado è minore. E dato che sono uguali, un accordo maggiore suona bene con un accordo minore, quindi ha la sua relativa minore. Quindi, per farvi capire, il do ha il la minore, come relativa minore, il re ha il si minore, al suo sesto grado. Se siamo in tonalità di mi, cosa c'è? Esiste il do diesis minore. Se siamo in tonalità di fa, c'è il re minore. Se siamo in tonalità di sol, abbiamo la minore. Se siamo in tonalità di si, abbiamo il... Ma ragazzi, perché io sono un po' dal tonico? Mi minore. Se siamo in tonalità di la, abbiamo il... fa diesis minore. Se siamo in tonalità di si, finalmente abbiamo il sol diesis minore. Spero che non sia sbagliato, ma adesso vi spiego veramente l'ultimissima cosa per vedere. Uno, come trasporre. come verificare se una trasposizione sta fatta bene e come verificare se questo schermettino qua è giusto. Perché in realtà io non lo so a memoria. Io me ne ricordo un paio e quelle qui diesis poi me le ricavo. Come anche me le ricavo? Io alcune me ne so a memoria. Il sol è facile con il minore, e il do è facile con la minore per me. Però, io ho visto che lo schermettino si mantiene alterato. L'abbiamo enunciata sta frase. E quindi, se io aumento di un tono, qua, tra dove re c'è un tono, anche qua c'è il più uno. Perché non stiamo facendo le singole note, stiamo facendo gli accordi armonizzati. E questo vale, allora. Quindi, lo stesso rapporto di relativa minore che c'è tra do e la, il minore, se io voglio chiedermi qual è la relativa minore di ma chi ne so va tra pesca re diesis. Ok, dico il re diesis. Quanto dista? Ah, dista 1.5 toni. Perfetto. Quindi, se la minore è la relativa minore del do, allora io devo aggiungere 1.5 toni per sapere qual è. E quindi questo qua è un do minore. Quindi, in generale, una volta che tu hai armonizzato una canzone, gli accordi, tu puoi spostarli come vuoi. e lo puoi fare anche di tanto. Facciamo, immaginiamo una canzone che sia, appunto, il classico giro 1, 4 e 5. Do, o sol. Ok. Io la canto per me e questa cosa qua nel pentagramma, diciamo, che occupa una certa zona qua. e io invece ho la voce acuta. Si sente con la voce acuta. E io, guarda, devo per forza stare qua. Molto più in alto, proprio tanto più in alto. Non è che dico l'aumento di un tono. Neanche l'aumento di due. Non l'aumento di tre. L'aumento di un po' di più. Eh, la facciamo in sol. Eh, oh mio Dio. Come si fa? Boh. Allora, vediamo. Tra Do e Sol che distanza c'è? Vogliamo contare? Tra Do e Re c'è un tono. Poi due. Poi c'è due e mezzo. Tre e mezzo. Vogliamo contare sette semitoni? Però fidatevi. Ok. Perfetto. Se io faccio così, devo aumentare sempre i tre e mezzo. Quindi da Fa dobbiamo contare il Fa abbiamo un tono Sol, un tono La, un tono Si, un semitono Do. Voilà. Stessa cosa per il Sol 3.5 toni, non ho più voglia, voi vi fidate, è il Re. Avrei potuto farlo diversamente? Certo, ci sono infiniti modi. Una volta che io ho calcolato questo, anzi, neanche calcolato, una volta che io mi dico ho la mia canzone Do, Fa, Sol. La voglio fare in tonità di Sol, quindi il primo grado cambia. Qual è il quarto e il quinto? O mi faccio lo schermettino, guardo l'armonizzazione, quindi so che il quarto grado è un Do maggiore, il quinto grado è un Re maggiore, oppure dico, molto più facile, tra Do e Fa, perché anche così le frecce mantengo le proporzioni, tra Do e Fa che rapporto c'è, qual è la distanza. Abbiamo, allora, tra Do e Re c'è un tono, tra Re e Mi c'è un tono, quindi siamo a due, e poi c'è il semitono, perché Mi non ce l'ha. Perfetto, abbiamo due toni e mezzo, 2.5 toni. E quindi, questa è la freccia di 2.5 toni. Infatti, dal Sol passiamo a La, un tono, poi passiamo al Si, un tono, e un semitono Do. Stessa cosa. Qua, cos'è la distanza tra Fa e Sol? Qual'è la distanza? Ebbè, è un tono, stavolta. Quindi la distanza qua è un tono. E guarda un po', Do Do Diecis semitono, Do Diecis Re due semitoni, quindi un tono, e tutto torna. Cosa è più comodo? Probabilmente fare questo metodo bianco, perché qua è sempre costante, è come se io mettessi un libro per terra o su un mobile a un'altezza diversa ma l'altezza è uguale per tutti i posti mentre qua invece tu guardi le singole pagine e devi un attimo vedere a che distanza sono tra di loro quindi questo è un ottimo esercizio questo è molto facile con questo vi saluto sarà un video lunghissimo e niente, ciao ciao grazie